Musica Oggi è un giorno importante per la Polizia Municipale, in particolar modo per chi segue i corsi di educazione stradale. E' il cinquantesimo anniversario dei corsi di educazione stradale. Una conferma, una sicurezza in quelli che sono i contenuti e il percorso che negli ultimi anni è stato affrontato dalla Polizia Municipale nel inculcare attraverso incontri con le scolaresche il buon cittadino, soprattutto alla guida dell'autovettura. Noi non vogliamo creare dei piloti ma vogliamo creare soltanto dei cittadini rispettosi di quelle che sono le regole del codice della strada ma soprattutto rispettose di quello che è un codice fondamentale che è il codice del diritto alla vita. 50 anni di corsi di educazione stradale. Sono tanti ma bisogna lavorare molto affinché possiamo infondere nei nostri ragazzi il rispetto delle regole, cercare di trovare un punto di incontro con le famiglie, la scuola e le istituzioni. Cercheremo di lavorare in maniera capillare per portare avanti questo progetto. È un progetto ambizioso e molto importante rispettare le regole, altrimenti gli incidenti continueranno sempre a invadere le nostre strade. Noi dobbiamo spazzare via gli incidenti, completamente. Grazie a tutti.